L'elezione in quota UDC del sindaco di Mirabelle Clano, Vincenzo Sirignano, nel CDA dell'Asi, sancisce lo strappo definitivo all'interno del Partito Democratico di Via Tagliamento. Il voto, infatti, ha fatto registrare l'assenza di numerosi sindaci democratici, contrarie alla scelta, ad attaccare la direzione del partito e soprattutto la corrente renziana, che in Irpinia ha nel deputato Luigi Famiglietti, il suo esponente di spicco. Ora, ha dichiarato il parlamentare, il segretario De Blasio farebbe bene a riunire gli organismi provinciali del PD per verificare se su questa linea, che si sta seguendo senza condividerne le strategie, ha la maggioranza oppure no. Insomma, la rottura c'è e la conferma è arrivata anche dalla nota con la quale il presidente di Big Bang Irpinia, Beniamino Palmieri, ha chiaramente affermato che a questo punto non ci sono più le condizioni per il sostegno politico all'attuale segreteria provinciale. L'intesa tra una parte del PD e l'UDC, ha aggiunto poi Famiglietti, che rinnega gli accordi istituzionali negli enti precedentemente registrati, ci pone davanti a scelte non condivise. Adesso la realtà dei fatti è emersa del tutto e la risposta di molti sindaci e amministratori è stata quella di disertare l'Assemblea. È il segno palese di un disagio patito dagli stessi amministratori come pure dagli elettori. Del resto, veniamo da una serie di sconfitte elettorali, provinciali e comunali, dove abbiamo perso diversi comuni. Allora si arriva ad un chiarimento per risolvere il problema. Alla segreteria lo abbiamo chiesto già molte volte. Diamo spazio ai numeri.